Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per traffico intenso, code a tratti tra Lastra, Signa e Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Sulla A1 in direzione Bologna tra Barberino e Aglio è vietato il transito e mezzi pesanti superiori a 7 tonnellate e mezzo. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla Statale 64 Porrettana in provincia di Pistoia per lavori senso unico alternato all'altezza della Galleria del Signorino. Infine ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali, catene o gomme termiche per la propria vettura. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!